Movimento 5 Stelle in Europa, finalmente abbiamo ottenuto e ci hanno lasciato il dossier sulla clonazione degli animali da fattoria e la possibilità di ottenere del cibo da questi animali clonati. Il Movimento 5 Stelle Europa ha lottato tanto, hanno tentato di toglierci questa possibilità, hanno tentato di ostacolarci in tutti i modi, ma ce l'abbiamo fatta e finalmente seguiremo l'iter amministrativo e burocratico nella creazione di questa nuova legge europea. Perché è così importante questa legge? Perché praticamente dipenderà alla salute di 500 milioni di cittadini europei che potenzialmente potrebbero trovarsi nei piatti delle bistecche identiche, del latte identico, del cibo identico perché ottenuto da questi animali clonati. Non si sa ancora che effetti potrebbero avere in quanto il risk assessment della Food and Drug Administration dichiara che i dati non sono ancora sufficienti e quindi servirebbero nuove ricerche scientifiche. Noi del Movimento 5 Stelle Europa non solo tuteleremo la salute dei cittadini, ma tuteleremo anche il benessere degli animali. Non vogliamo che essi soffrano, non vogliamo che subiscano queste tecniche di clonazione che ad oggi non sono ancora sicure e portano nient'altro che sofferenza. Seguiteci perché nello spirito partecipativo del Movimento 5 Stelle presto coinvolgeremo anche voi nell'iter di questa nuova legge europea. Grazie a tutti.